Si è svolta a Montepagano a Roseto degli Abruzzi una giornata congressuale sotto il segno dell'Associazione Italiana di Uro Ginecologia, direttore del corso il dottor Alessandro Santarelli, primario del reparto di ginecologia e ostetricia di Sant'Omero. Presenti i nomi importanti del panorama nazionale e internazionale, le tematiche affrontate hanno riguardato la salute del pavimento pelvico in tutte le fasi della vita della donna e le possibili cure sia di tipo medico che chirurgico. Abbiamo affrontato una problematica sempre più emergente in ambito ginecologico che è la problematica uroginecologica. Sempre più numerosi sono i medici che si occupano di questo aspetto così specifico della nostra disciplina. Durante il convegno è stato annunciato che a breve nella Asle di Teramo partirà un ambulatorio accreditato presso la Società Italiana di Uro Ginecologia, in cui convergeranno tutte le figure professionali preposte alla cura del pavimento pelvico. All'interno della nostra azienda c'è sempre maggiore attenzione verso le problematiche del pavimento pelvico, sia per quanto concerne la parte di prevenzione che per quanto concerne la parte di diagnostica e cura, cura sia medica che chirurgica, e a breve prenderà il via un centro multidisciplinare all'interno del quale confluiscono più figure professionali che avrà come obiettivo finale la cura del pavimento pelvico di tutte le nostre donne in tutte le fasce d'età. Parola d'ordine sempre quella della prevenzione. Da che età bisogna iniziare? Assolutamente sì e più ci occupiamo di questa nicchia della nostra disciplina, più ci rendiamo conto che la miglior cosa è sempre fare la prevenzione ed educare le nostre donne alla prevenzione. Sicuramente un'attenzione specifica va dedicata alla gravidanza e al parto che sono due momenti cruciali per quelle che possono essere problematiche future del pavimento pelvico.